E' la seconda volta che me la portate via! Ti verrò a prendere, ok? Al quarto mese di gravidanza, un tentativo di aborto illegale è una cosa seria. Ho predisposto il tuo collocamento per sei mesi in una casa maternità. Piacere, Nadine, la tua referente. Di là c'è il nido e qui, come vedi, si ritorna nella sala comune. Di quanti mesi sei tu? Cosa? Quattro mesi o quattro giorni? Tu sei a termine il 18 dicembre. Cazzo, è lontano. Pazzesco. Antiaffezionare? No, no, tranquilla. Ehi, ragazze! Che ci fate? È proprio vero, ci si incolla al culo. E vedrai, con il bambino sarà ancora peggio. Con me non succederà, non intendo tenerlo. Meno male per lui che non lo tiene, il piccolo poverino. Lo do in adozione e tu avresti dovuto fare lo stesso. È la meia, strozza del cazzo! Va a far colo! Parlerai con tua madre di quando sei nata? Va veloce. Mancano sei settimane. Io parlavo del cuore. Tu credi un sacco di cose, ma poi non ascolti nessuno. Io non sono più lì, io non sono più lì, io non sono più lì, io sento la pluia di altre planette, di altre planette. Io non sono più lì, io non sono più lì, io sento la pluia di altre planette. Grazie.